Musica Buonasera, siamo in compagnia del maestro insegnato questa sera per il riconoscimento della sua arte. Le chiedo il suo nome e da dove viene? Allora, io mi chiamo Alessandroni Franco, vengo da Urbino. Ci parli maestro della sua arte, come la rappresenterebbe, come la descriverebbe anzi? Beh, la mia arte, diciamo che mi ispiro molto alle luci e alle ombre che si creano, dove creano atmosfera, diciamo, prevalentemente al mattino e al pomeriggio. Voglio raccontare un po' la poesia del territorio, anche se ultimamente mi dirigo un po' verso l'inquinamento, un po' i temi attuali, praticamente. E niente, così. Cerchiamo un po' di scelfire i cuori di tutti. Esatto, esatto. Perché questo è dell'inquinamento, è un problema abbastanza sentito, insomma. Adesso speriamo che... Bisogna sensibilizzare anche attraverso l'arte, certo. A chi vuole dedicare questo premio? Agli amici, alla moglie, insomma, a chi mi conoscono. Noi la ringraziamo per essere qui e ci vediamo più tardi sul palco. Buonasera a tutti, sono onoratissimo di ricevere questo premio, grazie all'organizzazione, all'accademia e cosa dire, non ho parole, grazie di cuore a tutti. Grazie. 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 Grazie.